Ma ciao a tutti, oggi DJ Jacopo non c'è perché ha preso il morbillo, allora da Roma sono venuto direttamente io, Luca Giurato, a parlarvi di musica elettrica, che è quella che piace ai giovani, poi prendono la droga e scopano come dei matti. Ma Giulia, ma che cazzo mi fate dire? Io sono Luca Giurato, me ne tornerai così torno a parlare dei modi migliori per fare la pedicura, ciao! Ciao a tutti, eccomi qua, pensavate che non ci fossi eh? Per puro caso è passato di qua Luca Giurato che voleva raccontare un po' di stronzate, sia mai che passi di qua altra gente in futuro. Come avete visto nel vlog di ieri, giovedì 4 febbraio è stato il mio compleanno e guardate che cosa mi hanno regalato. Una limited edition in vinile dei Daft Punk, brividi. Ringrazio ancora Cree, Ricky e le mie due fran, vi lovo. Ma iniziamo a parlare di musica elettronica e la prima canzone che vi voglio far ascoltare è di Canu Silva, Pump of the Jam. Ringrazio ancora Cree, un Like,? Canu Silva ha rivisitato il grande successo del 1991 dei Tecnotronic, aggiornandolo con sonorità Future House. Già negli anni scorsi Benny Benassi e Chami ci avevano messo le mani sopra e oggi nel 2016 tocca Canu, che poi di che razza sarà? Ora invece ascoltiamo assieme Broken Flowers di Danny Hellhard. Bellissima produzione con suoni molto freschi e Tropical House. Andando a spulciare nel web ho scoperto che Danny è dal 1989 che produce. Anzi vi dirò di più, Broken Flowers è uscita già tre anni fa nel 2013, ma solo ora i grandi DJ, grandi come me naturalmente, si stanno accorgendo di lui. Riuscirà a spaccare quest'anno? Ma ora un pezzo drama e bass appena uscito è di Ned Sky assieme ai Digital Farm Animals, Work It Out. Il produttore belga aveva già prodotto Rio, uscito quest'estate, che sicuramente gli amanti del calcio avranno sentito in qualche stacco pubblicitario. Ed ora ci riprova con questo nuovo singolo, che sicuramente gli amanti della drum and bass apprezzeranno. A proposito, andate a vedere il video nel quale parlo di questo genere musicale di M. Trovate qui sotto in descrizione il link. Anche per oggi il video è finito e... Non avrei mai pensato di dire una frase del genere. Arriviamo almeno a 10 like per vedere il prossimo video. Non vi chiedo tanto. Continuate a seguirmi, iscrivetevi al mio canale e ai miei social in descrizione. Ciao! Luca, ok, la prossima volta ti rinvito. Ma la grammatica, dai! Mi raccomando, Luca!